Fin dai tempi più antichi, il filo d'oro è il simbolo di un sapere che nasce dall'esperienza personale e che è libero dai condizionamenti istituzionali. È un filo perché rappresenta la continuità di un'esperienza sempre antica e sempre nuova. Ed è esile perché in ogni generazione questa consapevolezza viene mantenuta da una minoranza di individui. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi critici e originali sulla millenaria vicenda cristiana. Emerge la complessità di un cristianesimo che continuò a svilupparsi ben oltre la diretta predicazione di Gesù e il fervore missionario di Paolo. Di fronte a queste ricerche possiamo chiuderci nelle certezze della fede oppure chinarci con mente aperta sulle appassionanti ipotesi degli studiosi e il brulicare di passioni e di idee del mondo cristiano delle origini. In fondo la domanda del Gesù dei Vangeli «Ma voi chi dite che io sia» si rinnova ad ogni nuova scoperta. Non molti anni fa l'ebraicità di Gesù era ancora argomento di accesi dibattiti. Oggi è universalmente noto e accettato che Gesù crebbe nella tradizione e nella cultura ebraica, fu circonciso, frequentò il Tempio, partecipò alle feste ebraiche, aderì alle norme alimentari, ai riti purificatori e ai tempi stabiliti per la preghiera e l'insegnamento. Una volta adulto, tra le perplessità dei familiari, iniziò una missione di predicazione itinerante. Radunò un certo numero di discepoli, donne e uomini, tutti ebrei di nascita e di educazione e insegnò loro la sua interpretazione della legge ebraica. Sembra che i seguaci non lo considerassero un Dio, ma un grande essere umano, un profeta. Gesù stesso non si definì divino o figlio di Dio, ma figlio dell'uomo o figlio del vivente. Tra gli apostoli nessuno manifestò mai il desiderio di fondare una nuova religione e men che mai di aderire ad un credo che non fosse quello dei loro padri. Nessuno di loro si definì mai cristiano, perché il termine stesso non era ancora entrato in uso. È storicamente certo che alcuni discepoli consideravano Gesù il Messia lungamente atteso, giunto a liberare il suo popolo dalla dominazione romana. Gesù era il centro di dispute e disordini. A un certo punto, Gesù era il centro di dispute e disordini. A un certo punto, i capi del suo popolo lo fecero arrestare e lo consegnarono ai romani, che lo misero sotto processo per sedizione contro lo Stato, e lo fecero giustiziare con l'accusa di aver affermato di essere il re dei giudei. Il fratello Giacomo e alcuni fedelissimi costituirono a Gerusalemme una prima comunità rigidamente fedele e alla legge ebraica. In sostanza, si distinguevano dalla fede degli altri ebrei, principalmente per la credenza nell'immediato ritorno di Gesù. Se Gesù fosse tornato sulla terra, avrebbe trovato la sua comunità divisa, dilaniata dagli scontri sui dettami biblici. Ma qui entra nella storia Paolo, zelante cultore della legge e nemico e implacabile dei cristiani. Assistete, dirà con piacere, alla lapidazione di Stefano, esponente innovatore della comunità primitiva. Sembra che Paolo sia stato uno degli sgherri più accaniti del sommo sacerdote nella lotta contro i primi cristiani. La religione cristiana è stata, in un certo senso, inventata da Paolo, un fariseo che non aveva mai conosciuto personalmente Gesù e che cominciò a predicarne il messaggio 50 anni dopo la sua morte, basandosi su una presunta rivelazione celeste. La conversione di Paolo coincise con una rovinosa caduta da cavallo sulla via di Damasco. Narrano i Vangeli che lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose «Chi sei, o Signore?» e la voce «Io sono Gesù che tu perseguiti». Da quel momento il persecutore dei cristiani si trasformò nel più accanito difensore della fede. Paolo ripeterà per tutta la vita che tutto ciò che egli sa gli è stato rivelato. Il rapporto privilegiato con Dio è continuato oltre il momento della conversione, rendendolo per sempre pari agli altri apostoli e anzi superiore ad alcuni di loro. Gli scontri con gli apostoli erano frequenti e molto accesi. Ritenevano l'osservanza della legge mosaica un requisito fondamentale per diventare cristiani. Mentre per Paolo il Cristo era venuto ad abolire la legge e a rinnovare la condizione umana. E questo messaggio doveva essere diffuso in tutto il mondo. I cosiddetti pagani, un termine inventato dai cristiani, non erano dei contadinotti ignoranti, come si potrebbe essere indotti a credere, ma popolazioni con una varietà culturale e religiosa molto sfaccettata e ricca di sfumature. Mentre il cristianesimo muoveva i primi passi, alcuni degli dei pagani erano già vecchi di un millennio. Il loro culto era diffuso in tutti gli strati della popolazione. Molti ebrei vivevano in diaspora, cioè fuori dai confini della terra di Israele. In un primo tempo Paolo si rivolse soprattutto a loro predicando nelle sinagoghe sparse per tutta l'Asia minore. Il Tempio di Sardi conteneva oltre mille persone. Il Tempio di Sardi conteneva oltre mille persone. I primi convertiti furono ebrei o pagani che frequentavano la sinagoga, ma con la maggioranza degli ebrei osservanti si moltiplicarono i contrasti. Ancora oggi Paolo è visto come il più grande folle della storia del popolo ebreo. Il rotolo della legge, custodito in questa nicchia, prescriveva la circoncisione e norme di purità che andavano rispettate. Agli ebrei attoniti Paolo predicava un sostanziale abbandono dell'osservanza della legge e una nuova via di salvezza aperta a tutti a condizione di credere in Cristo risorto. La scandalosa richiesta di accettare come salvatore un presunto messia politicamente fallito provocò ovunque grandissima indignazione. Ma come, dicevano gli ebrei, siamo il popolo eletto. Il nostro Dio ci ha dato una legge che prescrive come adorarlo e vivere in comunità e ora arriva uno scuro pseudo apostolo che in base ad un breve incontro visionario sostiene che il Messia è già arrivato e che il patto che Dio aveva stabilito con il nostro popolo non ha più nessun valore. Cacciato dalle splendide e opulenti sinagoge percosso, quasi lapidato come bestemmiatore contro Dio Paolo decide di predicare d'ora in avanti solo ai pagani. Grazie.